Di non sprecare tempo, concetturando, ipotizzando segni e tempi, come se fossimo magi carismatici, luttuosamente, luttuosamente, la fine del mondo è già arrivata per oltre 200.000 anime in questa pandemia. Ogni giorno attorno al mondo il fine mondo arriva per 150.000 persone. Ogni volta che c'è un battito del tuo cuore, due cuori si fermano eternamente. Ciò che spetta a noi in questa crisi, ricevete la potenza dello Spirito Santo, siate ripieni dello Spirito Santo. Signore, quando avverranno queste cose? Non vi importa, non sono fatti vostri. Ma quel che voi dovete fare, ricevete il battesimo dello Spirito Santo. In mezzo a questo fenomeno disastroso, più che mai, abbiamo urgente bisogno di un nuovo battesimo nello Spirito Santo. Una fresca unzione di potenza, un nuovo alto solaio, un nuovo risveglio pentecostale. Il nostro movimento pentecostale nacque nel fuoco di un risveglio universale, le adi incluse. Noi siamo un popolo nato in risveglio, non lo vogliamo mai dimenticare. Il Signore si è lodato per questa nuova, meravigliosa tecnica moderna, la magnifica musica dei nostri cori, i nuovi edifici di culto, pastori istruiti, teleculti, Skype, Zoom, Instagram. Amen, amen, amen! Ma, ma, nessuna tecnica può sostituire la gloriosa unzione dello Spirito Santo, il fuoco del risveglio. Mai, mai, giammai! Ciò che spetta a noi, mi sarete testimoni, non dice qui, mi sarete indovini, ma testimoni, non testimoni di Geova, ma testimoni del Vangelo. Il nostro messaggio centrale a questo mondo, traumatizzato da questo coronavirus catastrofico e mortifero pure, non è un messaggio di condanna, non è un messaggio di calamità, non è un messaggio di disastri, fuoco, zolfo, giudizio universale. Il nostro messaggio è sempre stato l'Evangelo, buona notizia, non brutta notizia. Infatti, Dio non ha mandato nel mondo il suo figliolo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di lui. Con la sua venuta, dice Nefessini, con la sua venuta, Egli ha annunciato la pace. Ecco il nostro messaggio. Stavo leggendo l'altro giorno.